Anteprima di Polifemo, l'occhio di Abate di venerdì 26 febbraio, ore 21, canale 78 del Digitale Terrestre, Delta TV, un Polifemo davvero ricco. Nella prima parte ci occuperemo di vita amministrativa relativa al comune di Taranto e lo faremo con il consigliere di maggioranza di democratici e progressisti Mimmo Cotugno, col consigliere di opposizione Aldo Renna dei conservatori e riformisti e per la società civile, per l'associazionismo abbiamo Giovanni Tufo, presidente del comitato Taranto 2, un dibattito sulla vita amministrativa di Taranto, su come vanno le cose in seno all'amministrazione e alla giunta Stefano, ma anche cercheremo di capire il ruolo di Taranto a livello regionale e a livello nazionale. Questo per quanto riguarda la prima parte. Nella seconda parte tutta una serie di puntate, di pillole dello sportello del cittadino e poi una bellissima, lodevole iniziativa organizzata dall'Istituto Archimede di Taranto sulla integrazione tra le varie etnie, tra le diverse razze. Siamo tutti uguali su questa terra e quindi ben venga l'iniziativa capoeira organizzata dall'Istituto Archimede. E poi alla fine il nostro momento musicale con gli specchi riflessi. Una puntata diciamo ricchissima per tutti i gusti. Non vi resta che mettervi comodi, in poltrona, azionare il telecomando, canale 78 del digitale terrestre, Delta TV, Polifimo e con voi. Polifimo, informazione libera della città. Buona visione.